amici carissimi ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di catechesi ad amo e la vita nella divina volontà giunto alla diciottesima puntata stiamo seguendo con l'avvincente viaggio alla conoscenza per quanto possibile per quanto fattoci conoscere da gesù di come era la vita di adamo di come è possibile vivere in maniera simile a come viveva questo nostro progenitore così tanto beneficiato dall'altissimo di quali sono le conseguenze dei guai successi con il peccato originale come gesù li ha riparati come noi possiamo riparare e come in qualche modo è possibile grazie al dono della divina volontà di ricominciare a vivere in maniera abbastanza analoga simile a come era la vita dei nostri progenitori io passerei abbastanza rapidamente alla lettura dei brani che questa sera sono tanto per dire una cosa nuova sono molto molto belli e importanti quindi e passerei subito alla lettura del primo di essi ci muoveremo sempre nell'ambito del 23esimo volume che come accennavo già la volta scorsa contiene ancora diversi passaggi diverse date inerenti al nostro tema e che quindi continuiamo a seguire primo testo 2 febbraio 1928 del volume 23 stavo seguendo il mio giro nel fiat supremo e giunta nell'eden stavo dicendo tra me mio gesù faccio mi ha l'unità del tuo volere per supplire a quell'unità che perdette il mio padre ad amo quando si sottrasse ad esso e per supplire a tutti quegli atti che non hanno fatto nell'unità di esso tutti i suoi discendenti ma mentre ciò dicevo pensavo tra me ed io sto nell'unità del fiat divino se non sto come posso supplire per gli altri quindi il mio dire finisce in parole ma non nei fatti ed il mio dolce ad amo muovendosi nel mio interno sì ed il mio dolce gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia quando ad amo peccò ci fu la ritirata dell'unità della mia volontà da ambo le parti l'uomo si ritirò da essa ed essa si ritirò da lui e col ritirarsi la mia l'uomo perdette la mia unità tutti i suoi pregi e i diritti che dio gli aveva dato nel crearlo perché lui fu il vero disertore del regno della mia volontà e il disertore perde tutti i diritti e il possesso dei suoi stessi beni ora come la mia volontà si ritirò dall'uomo perché fu lui a ritirarsi per primo così può di nuovo darsi a chi ritirandosi dall'umano volere rientra nel suo regno come nuova conquistatrice di quell'unità del mio fiat divino molto più che tra te la divinità c'è stato un accordo il mio volere a farti il gran dono della sua unità chiamandoti al primo atto della creazione e tu non solo a riceverlo ma a fargli il dono della tua volontà sicché da ambo le parti c'è stato lo scambio ma non in semplici parole ma a coi fatti tanto è vero che la mia ti sta mettendo a giorno di ciò che riguarda il dono grande che ti ha fatto affinché conosca ciò che possiedi goda dei suoi beni e apprezzandolo lo impedi all'umana famiglia e tu avendo fatto il dono della tua volontà non vuoi più riconoscerla e senti terrore solo a ricordarla ora è giusta che faccia il tuo dovere supplisca quell'unità perduta dall'uomo da che la mia fece la sua ritirata ritirandosi nelle sue regioni celesti non è forse padrona la mia volontà di darsi di nuovo purché trovi di nuovo chi non più voglia vivere della sua volontà umana ecco questo brano a mio avviso è oltre che stupendo è molto importante e significativo sotto vari aspetti ora qui Luisa si pone il problema che attenzione al termine perché poi sentiremo di nuovo parlare di questa unità nel divin volere che questa unità del nel divin volere persa da Adamo fosse da Luisa vissuta a chiacchiere quindi non affatti dice ma siamo sicuri insomma che io sto qui dentro e Gesù trae occasione da questo dubbio non solo per spiegarle nella seconda parte della sua risposta che in realtà sta vivendo a fatti e come quindi altro che vedremo anche questo vale anche per noi un buon criterio di discernimento per comprendere se stiamo veramente ecco cercando di vivere la divina volontà o se facciamo le ghiacchiere ecco perché chiacchiere le chiacchiere o semplicemente dei gesti relativamente semplici no ma non seguiti da solida sana sostanza ecco perché qui sta parlando di cose grosse e cose grosse richiedono grossi investimenti no ecco però prima di giungere a questo step Gesù fa un prequel dove spiega che cosa ha successo e questo è un principio valido non soltanto per quel che riguarda la vicenda di Adamo ma valido in generale cioè nel senso ogni volta che succede qualche guaio sempre c'è sempre un no una chiusura previa da parte dell'uomo io non è mai il primo a chiudere qualche porta o chiudere qualche rubinetto mai non esiste cioè quella che è la volontà di Dio è solo dare 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 e da solo che bisogna vedere se dall'altra parte c'è sta un recipiente atto ad accoglierlo quindi volente eroso di accoglierlo oppure se c'è una sala cinesca che si chiude se la sala cinesca si chiude Dio si ritrae allora qui dice quando l'uomo peccò ci fu la ritirata della mia volontà doppia ma in che senso l'uomo si è ritirato inserito da essa ed essa si ritirò da lui e con questo ritiro è la fine l'uomo perdette la mia unità poi vedremo che cosa significa posso fare un'anticipazione cioè l'unità nel divin volere da parte di Adamo significava che lui nel suo agire operare qualunque cosa fare facesse doveva possedere e racchiudere tutti cioè tutti coloro che sarebbero venuti dopo di lui me compreso e chi ascolta questa catechesi compreso erano contenuti e racchiusi in tutti i suoi atti cioè ci sono dei passaggi in questo mondo che ci fanno veramente venire i brividi vivere nella divina volontà significa questo qui significa raggiungere tutto e tutti non è solo un fatto privato e personale quindi perdette la mia unità tutti i suoi pregi e diritti e divenne il Adamo nuovo termine il disertore bruttissima parola questa qui cioè il disertore è quello che abbandona insomma le file dell'esercito patrio e scappa è uno degli esseri insomma più degni di infamia che esistono cosa proprio brutta però Gesù si tiene a sottolineare la mia volontà si è ritirata da lui perché è stato lui a ritirarsi per primo da me e quindi com'è il processo Adamo è il dono della divina volontà come si fa ad avere il dono della divina volontà facilissimo cosa ha fatto Adamo Adamo si è ritirato dalla divina volontà e si è rinchiuso nell'umano volere quando si ridarà la divina volontà a un essere umano? facilissima quando si ritira dall'umano volere e rientra nel regno come conquistatrice nuova e per fare questo cosa bisogna fare? ah! una cosa molto semplice fare il dono della propria volontà ma attenzione non basta dire a Gesù io ti do la mia volontà e queste torniamo in quello che diceva Luisa nel prologo no? ci sono chiacchiere queste qui o sono fatti fare il dono della propria volontà a Gesù vuol dire non volerla più riconoscere cioè non ti riconosco quando Gesù dice chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso è dice qualche cosa di molto attinente cioè che cosa ha detto San Pietro la notte in cui ha rinnegato Gesù ma tu lo conosci a quello? io quello? mai visto e conosciuto chi lo conosce? ma come non lo conosci? ma ti abbiamo visto e non so ma io non so di che cosa stai parlando io non lo conosco ma no ma tu ce l'hai parlato a Galilea ma ti giuro su Dio ma hai visto e conosciuto cioè non ti proprio d'accordo cioè non c'è niente a che fa questa è una cosa brutta quella che ha fatto a San Pietro ma però ci aiuta a comprendere cosa significa non vuoi più riconoscerla Gesù dice a Luisa tu mi hai fatto il dono della tua volontà d'accordo ma che significa questo? che tu non vuoi più riconoscerla non ti conosco non ti faccio campare non ti concedi i tuoi diritti capite? in continuazione non cinque minuti quarto d'ora mezza giornata un giorno da leone d'accordo? facciamo come il film dei troisi non voglio un giorno da leone che c'entra da pecora un giorno no no mai più capite? quando uno cioè quando si va al funerale di qualcuno possiamo stare sicuri che fino al giorno della risoluzione della carne vado in giro non lo vediamo più d'accordo sta proprio tranquillo non lo vedi più in giro non si vede più allora qui si tratta di fare questa risoluzione capite che cioè quando si pensa per esempio alla vita terrena della Madonna già tante volte l'abbiamo vissuta che molta gente dice cioè non conoscere per tutta la vita nemmeno un atto di volontà proprio non dargli vita cioè è un eroismo cioè questo istante per istante momento per momento cioè quindi certo noi non abbiamo come Maria Santissima sempre per un istante la conoscenza perfetta della dina volontà però dobbiamo anche pensare che anche la Madonna non è stata sottratta dal dovere di fare di fare attenzione di fare discernimento perché abbiamo già detto in altre circostanze la Madonna tante cose non le sapeva e quindi le ha sapute quando la divina volontà gliela ha messe davanti e ha dovuto capire quello che Dio voleva e anche quando erano richieste grosse rinunce grossi sacrifici la Madonna era sempre sull'attentico il suo Fiat d'accordo Fiat non è una parola cioè d'accordo io tutti quanti quelli che vivono in questo mondo la usano anche io insomma quando concludo un discorso che io dico sempre Fiat Ave Maria anche quando concludo una catechesi insomma no ma questa non è una chiacchiericcia ecco o una parolina questo è ogni volta un proclama di un impegno che uno almeno ce deve provare quindi non vuoi più riconoscerla non solo non vuoi più riconoscere senti terrore solo a ricordare qui ci vuole come dire anche una grande grazia dello Spirito Santo perché se ci mettessimo bene in testa questa cosa quando fai come te pare tu combini solo che guai anche nell'ecito non soltanto quando esci dalla volontà di Dio nel senso che pecchi ma anche nell'ecito se facciamo come ci pare a noi come minimo facciamo qualche cosa di sommamente imperfetto come minimo e già questo ci sarebbe andato molto bene d'accordo altre volte se fanno danni perché i danni non si fanno a volte soltanto quando uno pecca cioè quando uno va contro formalmente la volontà di Dio ma anche quando uno fa una stupidaggine magari pensa di fare bene fa male ma perché fa sempre da testa sua allora non solo non vuoi riconoscerla senti il terrore solo a ricordarla capite cioè questa è una disposizione che ci deve nascere dal di dentro piano piano gradualmente insomma io spero che qualcuno abbia la grazia di vedersi realizzare una cosa che suggerita dall'oggi al domani ma questo io personalmente lo vedo come una lenta maturazione interiore favorita da tuttavanto una serie di circostanze di disposizioni anche dell'anima che si abitua ad una certa introspezione ad un saper ritornare sulle proprie azioni su se stesso proprie pensieri senza ansie senza patemi senza agitazione ma con quella capacità anche di oggettivazione di dire Leonardo quando tu fai le cose da testa tua lo vedi che le cose vanno storte guardale capito cioè quindi diventa poi un qualche cosa che scende giù volentieri insomma leggero ecco per cui davvero si acquisisce questa avversione attenzione non c'era la volontà propria non vuol dire non avere più la volontà ma vuol dire la nostra volontà sempre unita a quella divina cioè attenzione anche questo è un aspetto da specificare anche se l'abbiamo sicuramente già detto altre volte sicuramente l'ho fatto notare altre volte cioè vivere nella divina volontà quindi non avere più volontà propria non riconoscerla sentire il terrore solo a nominarla non significa che non abbiamo più la facoltà della volontà questa sera da nostro signore ma io rinuncio a esercitarla come espressione di quello che io desidero io voglio io penso io sono convinto capito un ottimissimo esercizio da fare un ottimissimo esercizio da fare perché queste cose diventano concrete come dice Papa Francesco il cristianesimo non è teoria è molto concreto sono qui davanti a belle chiacchiere cioè nelle cose semplici nelle cose cioè se deve prendere una decisione ci stanno due o tre persone che devono decidere io sono convinto che sia buono fare una cosa certamente non si tratta di cose che ci vada in mezzo la fede o il vangelo quindi una cosa secondaria adeguati a quello che fa un altro non 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 imporre mai la tua opinione ma in certi casi non la dire nemmeno a meno che tu non sia richiesto questo è un esercizio che facevano anche i santi e vedi come te la metti sotto sotto i piedi la la tua la tua volontà capito che sta un esempio molto 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 concreto di cose di questo genere cioè di punti dove possiamo esercitarci perché questo non è una cosa cioè noi fare quello che ci pare cioè quindi fare quello che ci piace secondare il nostro volere è una cosa che abbiamo sempre fatto come dire è la norma quindi come dire acquisire un'attitudine contraria richiede un po' di esercizio quindi un mollacchio non diventa un atleta così perché dice bene da oggi non sono più un mollacchio sono un atleta può dire quello che vuoi insomma però fai 4 metri e sta con la lingua da fuori e col fiatone se quei 4 metri sono salita quindi se vuoi diventare un atleta bene comincia a allenarti un po' se no atleta non ci diventi allora è giusto proseguire Gesù che faccia il tuo dovere e supplisca quell'unità perdura dall'uomo da che la mia fece la sua ritirata ora non è forse la mia la padrona la mia volontà di darsi di nuovo purché trovi di nuovo chi non più voglia vivere della sua volontà umana non vivere di volontà umana ma di volontà divina ecco quindi questo ripeto è un esercizio da fare senza come dire senza psicosi senza scrupoli senza agitazioni quindi è un cammino in cui instradarsi d'accordo io magari in certi momenti neanche me ne accorgo che sto fare una cosa perché la voglio fare di volontà mia quindi uno non può come dire cioè perché tutte le cose vanno sempre prese che sta bene ricordare ogni tanto un grano salis no dico allora mo c'ho fame e mangio ma questo sarà un atto di volontà mia cioè se uno campa così cioè non va no ecco quindi mangiare moderatamente insomma quando è ora è certamente che conforma la volontà di Dio perché è Dio che ci ha creato come esseri che se non mangiano morrono quindi cioè se io mangio certamente sto umbire certo se mangio dieci volte al giorno ma mangio un chilo di nutella fuori pasto insomma che questa sia volontà di Dio c'è un pochino più di dubbio ma uno ci arriva un attimo con un po' di grano salis ecco e di e di buon senso no quindi sì Gesù la dona di nuovo la sua volontà divina lo fa questo dono a chi però le parole d'ordine sono non riconosce la sua volontà sente terrore anche solo a ricordarla e non vuole più vivere di volontà sua ma solo di volontà divina e questo non a chiacchiere ma a fatti questo è il primo punto secondo brano di questa diciottesima puntata molto breve ma molto forte e anche molto foriero di ottimismi e grandi speranze siamo sempre nel volume 23 stavolta 5 febbraio del 1928 dice Gesù figlia mia come Adamo peccò Dio gli fece la promessa del futuro redentore passarono secoli ma la promessa non venne meno e le generazioni ebbero il bene della redenzione ora come venni dal cielo e formai il regno della redenzione prima di partire al cielo figlio un'altra promessa più solenne del regno della mia volontà e questa fu nel pater noster e per darle più valore per ottenerlo più subito feci questa promessa formale nella solennità della mia preghiera pregando il padre che facesse venire il suo regno e la volontà divina come in cielo così in terra noi sappiamo che è detto in due parole che cos'è la vita nella divina volontà è venga il tuo regno sia fatta la tua volontà ma entrambe queste cose come in cielo e così in terra cioè che in terra ci sia il regno di Dio e si faccia la volontà di Dio così come la fanno gli abitanti del cielo questo lo diciamo sempre nel nel padre nostro quindi ce l'ha detto Gesù il brano è già è già finito non sarà un lungo commento e ma che cosa significa questo che cosa sta dicendo Gesù allora Adamo ha fatto il guaio del peccato originale sappiamo quando è stato promesso il Redentore subito subito porrò in nemicizia tra te la donna tra la sua stirpe e la tra la sua stirpe e la sua stirpe questa di schiacciare la testa e tu le insidierai il calcane il cosiddetto proto-vangelo se non ricordo male è Genesi 3.15 subito solo che quanto tempo è passato da allora fino all'avvento della redenzione secondo il calendario biblico è oltre 4 millenni insomma non è benedezza è successo il giorno dopo ecco ora quanto tempo è che stiamo dicendo il Padre Nostro sono circa 2000 anni il regno della divina volontà non c'è ancora come dire è venuto sulla terra come sappiamo neanche bene come sarà però sappiamo che c'è una creatura che dopo tanti secoli perché fino a prima di lei questa è cosa che aveva riguardato solo Gesù e la Madonna che tra l'altro si erano tenuti per sé non parlandone non rivelandolo quindi non sapeva nessuno di cosa si stesse parlando ed è Luisa Piccarrete Luisa Piccarrete ha vissuto questa cosa qui punto adesso poi la Chiesa farà tutte quante i suoi processi di canonizzazione che speriamo che vadano spediti e presto in porto però Luisa ha vissuto questa cosa Gesù ha detto tutte queste cose a Luisa e le era fatte scrivere certamente non semplicemente per fare l'elogio il pane girico di una creatura per quanto santa come Luisa Piccarrete ma perché le stesse cose che lei ha vissuto possono essere vissuti da altri le stesse conoscenze che lei ha avuto potessero essere fatte proprie da altri in ogni caso cioè la redenzione è stato un fatto oggettivo universale tra l'altro è stato anche un momento sapete che ha fatto la redenzione nei primi tempi della chiesa cristianesimo si è trovato in stato di assoluta minoranza sotto le strette feroci in alcuni momenti della persecuzione c'è stato come dire un picco proprio quando si è arrivati al picco di questa persecuzione con Dio Cleziano il picco ha coinciso con l'ultima carneficina dopodiché c'è stato il trionfo del cristianesimo nell'impero romano da dopo Costantino c'è stato il trionfo del cristianesimo con Teodosio addirittura il cristianesimo è diventato la religione dell'impero e adesso noi viviamo in un tempo sciagurato che ha apostatato dalla fede attenzione che c'è un intervento l'ho sentito nei giorni scorsi di Papa Francesco in persona che descrive i nostri tempi con tutta quanta la legislazione iniqua che stati stanno facendo e che obbligano tutti gli altri stati a conformarsi come il segno della grande apostasia sono parole di Papa Francesco ok quindi oggi noi non ci possiamo tanto rendere conto cioè il regno della redenzione è venuto capito perché cioè qui per diversi millenni cioè il mondo era cristiano capito Gesù Cristo certo poi c'erano ci sono sempre stati i grandi peccatori quelli che non erano fedeli quelli che non hanno vissuto adeguatamente che non hanno che non si sono santificati d'accordo ma che si trattasse di un mondo cristiano non era in discussione quindi che capite cioè questo per dire che la promessa della redenzione si all'inizio ha riguardato come dire pochi pionieri diciamo così molti dei quali che hanno fatto i martiri insomma no ma anche lì nel regno della redenzione che è successo che alcuni alcuni hanno speso la vita oggi ho cominciato una serie di incontri biblici sul Vangelo di San Luca che è la penna di San Paolo oh ma San Paolo ha speso una vita intera appresso al Vangelo si è fatto tanti di quei chilometri per portare cosa? per portare la buona novella più parti possibili era un apostolo è perché la redenzione cioè c'è arrivata può essere però quanto sangue ci hanno sputato dietro perdonate insomma il termine fior di apostoli martiri che hanno versato il sangue insomma che si sono spesi si sono consumati per portare il Vangelo quindi certamente il regno della divina volontà verrà ma certamente il regno della divina volontà ha bisogno di apostoli questo è proprio sicuro questo qui e tra l'altro Gesù negli scritti sottolinea io spero che qualche sacerdote ascolti queste cose perché sottolinea l'importanza assolutamente fondamentale dei sacerdoti nell'opera di predicazione e di diffusione quindi della dottrina sulla divina volontà che non è altro che l'esegesi autentica del padre nostro quindi questa cosa cioè capite se c'è una diciamo così dottrina che proprio ha diritto di cittadinanza 100% nella chiesa dove non c'è nessun uomo di chiesa che può dire ha su questa cosa è la è la divina volontà quindi cioè io personalmente a meno che ripeto uno non non si metta a fare cose strane insomma o a interpretare in maniera garibaldina e del tutto fuorviante o astrusa alcuni passaggi delicati di questi scritti ma quando uno cioè se tu ti dici da oggi in poi preferisco fare la volontà non mia adeguarmi mettermi al di sotto tutto davanti alle creature ma questo cioè più quintessenza delle santità di questo ma che vuoi fare capite oh quindi la grande speranza è che questa promessa Gesù ha disegnato questa cosa il regno della redenzione si è visto compiuto si è visto compiuto e anche in forma estesa generalizzata tale da che coinvolge un impero intero sì così sarà del regno della mia volontà d'accordo così sarà non sappiamo quando sarà tra due anni o sarà tra duemila anni non lo sappiamo non lo sappiamo ma sicuramente sarà sicuramente sarà San Paolo non si immaginava insomma che a seguito della sua predicazione così sacrificata insomma nel senso che gli ha coinvolto tutta la vita 300 anni dopo perché questi sono i tempi da quel seme sparso in varie posti della dell'Asia Minore della Grecia della della Macedonia fino a lì era a Roma sarebbe poi come dire ecco fruttificato in questo modo così grosso ecco quindi l'attività della semina è sempre molto 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 importante bene andiamo adesso al ventitresimo volume 12 febbraio 1928 altro passaggio allora solo io come uomo e come Dio potevo supplire all'uomo e ricevere dentro di me tutto l'operato di una volontà divina che le creature dovevano ricevere e fare e per mezzo mio comunicarlo a loro perché nell'Eden le due volontà l'umana e la divina restarono come incagnesco perché l'umana si oppose alla divina tutte le altre offese furono come conseguenza questo tra l'altro che il peccato originale è enormemente più grave di tutti gli altri peccati commessi dopo il peccato originale perciò prima dovetti rifare in me tutti gli atti opposti al fiat divino fargli distendere in me il suo regno se non avessi riconciliato queste due volontà incagnesco ma come avrei potuto formare la redenzione perciò di tutto ciò che io feci sulla terra il primo atto era ristabilire l'armonia l'ordine tra le due volontà per formare il mio regno la redenzione fu conseguenza di questo e perciò fu necessario togliere le conseguenze del male che aveva prodotto l'umano volere e quindi diedi rimedi efficacissimi per poi manifestare il gran bene del regno della mia volontà onde i riflessi della luce di essa non fanno altro che portarti gli atti che contiene la mia umanità per fare che tutto sia volontà divina in te perciò sia attenta nel seguirla e non temere ora questo brano fa comprendere questo step successivo come una volta che si era verificata questa rottura da parte dell'uomo cioè l'uomo il dono della divina volontà l'uomo ce l'aveva dentro di sé perché questo è col peccato lo ha cacciato via lo ha estromesso abbiamo già visto io mi ritiro da te e lei si ritira da me quindi c'è una situazione di opposizione Gesù se il termine restarono come incagnesco allora che cosa bisogna fare bisogna riconciliare la divina volontà con l'umana volontà anzitutto dove dentro l'uomo e questa è un'operazione che fece Gesù internamente non è una cosa che si è all'esterno perciò prima dovetti rifare in me tutti gli atti opposti al fiat divino fargli distendere in me il suo regno ecco perché si dice che Gesù ha rifatto tutti gli atti di tutti gli uomini da Adamo fino all'ultimo della storia perché è in lui che ha riunito e rappacificato questo c'è un eco di quello che dice San Paolo nelle sue lettere rappacificando per mezzo del suo sangue facendo di due un popolo solo rappacificando per mezzo di Dio con l'umanità e distruggendo in se stesso l'inimicizia quale l'inimicizia l'inimicizia tra l'umana volontà e la divina volontà anzitutto in Gesù hanno fatto la pace si sono trovate perfettamente all'unisono capite qualcuno io so che ha accusato gli scritti di Luisa di avallare il monotelismo dico ma le hanno lette queste cose oppure uno non sa veramente di che cosa deve parlare quando Gesù dice se lui dentro di sé ha dovuto rifare tutti gli atti opposti al fiat divino riconciliando la umana volontà con la divina perché la divina potesse estendere per un suo regno ma come si fa a dire che Gesù c'era una volontà solo che era quella divina si è detto che ha dovuto rifare con la volontà umana tutti gli atti nel fiat divino che le volontà umane non avevano fatte a partire da l'anno in poi ma come come gli viene in mente una cosa del genere questo è scritto proprio il contrario non si serve il raddottorato in teologia per capire queste cose qui boh delle volte si sentono e si vedono delle cose che uno rimane così ma come come fa allora Gesù non soltanto dice che questo era indispensabile attenzione perché si potesse poi di nuovo manifestare il gran bene del regno della divina volontà non solo per questo ma Gesù dice che se non avesse riconciliato queste due volontà in Cagnesco non avrebbe nemmeno potuto formare la redenzione non lo poteva fare il primo atto era ristabilire l'armonia l'ordine tra le due volontà per formare il mio regno la redenzione fu conseguenza di questo capite che questo è anche uno dei motivi profondi che fanno comprendere per esempio i 30 anni di vita nascosta ma noi sappiamo che tutta la vita di Gesù questo ce lo dice nelle ore della passione fu tutta quanto una croce e tutto concorse incessantemente all'opera della nostra redenzione giusto tuttavia in senso come dire oggettivo cosa diciamo noi ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce è redento il mondo cioè l'opera della redenzione in senso stretto è stata da Gesù compiuta quando il venerdì santo dalla notte del giovedì santo al venerdì santo con la passione la morte e la croce allora e con me tutti questi anni prima un po' di va Gesù venire in età adulta fare un paio d'anni di predicazione tanto poi ci pensano gli apostoli compie la redenzione e poi andarsene c'erano da rifare tutti quanti gli atti a voglia fatti insomma no se ti copri tutte quante le generazioni di tutti quanti i membri della razza umana perché se non faceva tutti questi atti non solo non poteva insegnare il padre nostro in quel modo lì perché la divina volontà sarebbe tornata tra gli esseri umani ma non avrebbe potuto essere realizzata anche l'opera della redenzione perché la situazione della volontà umana sarebbe stata appunto irreversibilmente in opposizione a quella divina quindi è inutile che tu la fai una cosa del genere perché tanto non sarà mai in nessun modo efficace se tu prima non hai questa opera voi pensate per esempio no cioè noi abbiamo cioè qui Gesù alza alcune ma chi se ne immaginava queste cose capite cioè Dio fa tutta quanto una montagna di operazioni a noi completamente ignote benefiche io quando ascolto queste cose quando leggo queste cose ovviamente nei giorni scorsi c'era c'era un testo che diceva è stata credo la meditazione di un paio di giorni fa le anime del purgatorio che dicevano a Luisa dice ma beata ma se l'avessimo sapete noi queste cose capito ma l'avremmo fatte ma non ci saremmo manco venuti finiti in purgatorio ma capite cioè chi sente queste cose di di ma io avete visto quando a Roma quando capita una disgrazia lo diceva sempre animale diceva ma che peccati ho fatto perché mi è venuta sta cosa no qui c'è l'espressione contraria dice ma io ma ma quale bene avrò mai fatto per poter sentire una roba del genere non si sa veramente non si sa quindi è davvero tanta roba quindi chi sono immagini quindi questo per dire stavo dicendo molte delle cose belle per esempio chi è che si immagina che cosa sta sta combinando Gesù nell'eucaristia ce l'ha detto lui attraverso gli scritti un sacco di volte che sta a fare Gesù Cristo in tutte sapete cioè chi ascolta sta cosa provi a pensare quanti tabernacoli ci saranno adesso in tutto il mondo dove ci stanno le specie consagrate quanti facciamo finta che sono un milione ma secondo me sono di più i cattolici nel mondo sono un miliardo d'accordo e che sta facendo Gesù bilocato moltiplicato per esempio in un milione di posti diversi capito cioè quando uno dice ah ma io non capisco cosa significa la dinamo un tamo si moltiplica e si biloca come non capisci cioè certo non è semplice da capire no ma dico cioè su questo siamo d'accordo se vogliamo essere cattolici so che Gesù Cristo presente nel tabernacolo della chiesetta mia è uguale a Gesù Cristo presente nel tabernacolo della chiesetta di Borgosa Michele dove c'è un nuovo sacerdote che ha preso il mio posto dove io stavo fino a tre anni fa cioè su questo non ci sono problemi cioè se io esco e vado a fare l'adorazione qua sotto vado a Borgosa Michele o vado a qualunque chiesa di di Latina o di qua della Toranina o di qualunque parte della chiesa cattolica dovunque vado trovo Gesù Cristo su questo credo che siamo tutti quanti d'accordo no? e che cosa fa Gesù Cristo tutti quanti che sta a farla quando non se lo vira nessuno dalla mattina alla sera certo Gesù si è lamentato tante volte attraverso tanti santi che la sua presenza eucaristica lo troviamo anche nella idea della passione non è apprezzata vorrebbe dare tante grazie agli uomini non se le vanno a prendere non vanno a dottorarli non pregano in chiesa fai tutte queste cose qui no? ok a prescindere da questo però che sta a fare tutto adesso c'è il nostro signore io sto a parlare qui dentro casa lui sta dentro il tabernacolo e che sta a fare sta pregando per noi sta facendo sta facendo un sacco di cose di benefici che noi non sappiamo ma le sta facendo adesso e le sta facendo adesso dentro quel tabernacolo e non è la stessa cosa che stia anche in un altro tabernacolo piuttosto che in un tabernacolo di meno capito ecco perché si dice che noi dobbiamo sempre ringraziare lotare benedire perché di molte cose buone benefici che il signore noi non abbiamo una minima coscienza capito ed ecco perché quando il signore scopre qualche velo per esempio che lui nel tabernacolo sta facendo queste cose questo si trova negli scritti chi li legge gli scritti lo troverà questo fatto qua che lui nei tabernacoli sta facendo un sacco di cose sta facendo gli atti nostri che dovremmo fare sta riparando ma come non l'ha già fatto durante tutta la vita terrena e si me lo sta continuando adesso non la viene nella sua vita eucaristica e mentre nella vita terrena c'era solo un'umanità di Gesù sulla terra qua ce ne stanno non sa quante di tabernacoli di particole di specie eucaristiche sparse nel mondo intero allora facciamo in tempo forse a leggere il ma si l'ultimo passaggio 23 esimo volume 3 marzo 1928 ho attenzione anche qui seguivo il mio giro nella divina volontà giugendone nell'Eden per unirmi allo stato di Adamo prima di peccare quando possedeva ancora l'unità poi la prossima volta vedremo questo brano che approfondisce l'unità col suo creatore per ricominciare i miei atti insieme con lui e per supplire e continuarla quando la perdette vuol cadere in peccato pensavo tra me ma perché Gesù Benedetto non ha manifestato a nessuno lo stato sublime le meraviglie che passavano tra Damo innocente e il suo creatore il pelago della felicità della bellezza che possedeva tutto era centrato in lui tutto da lui partiva o se si conoscesse lo stato da Damo le sue grandi prologative forse tutti sospirerebbero di ritornare alla sua origine dove l'uomo uscì ma mentre ciò pensavo il mio dolce Gesù si è mostro nel mio interno e tutta bontà mi ha detto attenzione figlia mia la mia paterna bontà allora manifesta un bene quando deve portarlo di quando deve portare un utile alle creature se non vedo ciò a che pro manifestarlo la storia dell'uomo innocente mi è troppo tenera al solo ricordarla sentite che sono parole di Gesù il mio amore sorge ricurgita e forma le sue onde altissime per riversarsi come si riversava su Damo innocente e non trovando su chi riversarlo attenzione perché non trovo un altro Adamo che lo riceva capace di ridarmi i suoi sbocchi d'amore perché il mio fiat divino integro in lui manteneva la vita reciproca di corrispondenza tra l'infinito e il finito il mio amore ne soffre ritornando e ritornando in me le mie stesse onde d'amore perché non trovo in chi riversarlo resto soffocato dal mio stesso amore ecco perché non ho manifestato finora lo stato di Adamo innocente nel lui manifestò quasi nulla del suo stato felice perché al solo ricordarlo si sentiva morire di dolore ed io mi sentivo soffocare dal mio amore ma sentite che roba ora figlia mia volendo ripristinare il regno della mia volontà ora figlia mia volendo ripristinare il regno della mia divina volontà vedo l'utilità di manifestare lo stato di Adamo innocente ed è questa la causa per cui spesso ti parlo del suo stato sublime perché voglio ripetere ciò che facevo con lui ed in tutto il mio volere voglio elevarti allo stato primiero della creazione dell'uomo allora la risposta che Gesù dice lui si dice senti il po' ma ste cose ste robe qua ma diciamole in giro ma perché non le ha dette prima perché non le ha mai restate a nessuno che era una cosa così bella quella che ci aveva che ha perso tutti impazzirebbero di gioia e vorrebbero tornarci no era necessario che i tempi fossero maturi che gli uomini fossero preparati io non posso andare a manifestare una cosa di questo genere quando nessuno sarebbe in grado di viverla ma nemmeno di di recepirla hanno dovuto maturare i tempi questa è ora volendo ripristinare le mie volontà vedo l'utilità di manifestare lo stato di Adamo innocente ecco perché si dice che la prima cosa per entrare nei temi di la mia volontà è acquisire queste conoscenze che il Signore ci ha donato attraverso questi scritti che sono una esplicitazione ricordiamolo esplicitazione certamente profonda dettagliata e per certi aspetti inimmaginabile a priori ma di ciò che già è stato detto fiat voluntas tua sicurin ceret inter adveniat regnum tum lo diciamo tutti i giorni che dice il rosario completo lo dice almeno venti volte al giorno almeno questa cosa qui almeno quindi e attenzione non l'ho fatto prima questo è una cosa veramente commovente perché se io avessi lo fa prima andare a rispolverare capite cioè qui sembra una storia d'amore che è andata a finire malamente senza la possibilità di poterla riallacciare con qualcun altro Gesù questo mi farà male mi avrebbe fatto morire di sofferenza non lo faccio per niente non lo faccio per niente perché è tanta la gioia nel ripensare a com'era Adamo prima del peccato originale a quello che abbiamo vissuto insieme quanto è il dolore a vedere come ci siamo andati a finire dopo e quindi fino a quando non c'è la possibilità che qualcuno ripristini questo filo spezzato che qualcuno ricambi e sia capace di accogliere di cambiare gli sbocchi d'amore dice Gesù così io non ne parlo proprio cioè questo ci va anche comprendere andiamo verso la conclusione cioè per esempio i tempi della storia io queste cose le sto dicendo un altro ciclo di catechesi che sto facendo che parla dei dogmi mariani allora non abbiamo da poco tra poco festeggeremo la festa di Cristo re dell'universo attenzione signore del tempo e della storia o quello che disse Gesù è asceso dal cielo non aspetta voi conoscere i tempi e i tempi attenzione e i momenti allora Luisa Piccarreta è nata quando era il 24 marzo del 1865 il 23 marzo non il 24 non credo del 1865 ed è morta ad aprile del 1947 non casualmente capite non casualmente io di questo sono convintissimo che io sto campando io sto campando in questo tempo storico perché io dovevo nascere in questo tempo storico perché io come chi mi ascolta ho delle cose da fare da parte del signore in questi anni quando ero più giovane stavo sempre a pensare ma che bello se fossi nato nel medioevo se avessi conosciuto San Tommaso da Luino oppure se ero nato nell'impero romano avevo conosciuto Giulio Cesare capite allora questi sono discorsi come dice San Paolo quando ero bambino parlavo da bambino pensavo da bambino ragionavo da bambino divenuto uomo ciò che era da bambino è lasciato verde io sono nato Luisa è nato in quel momento perché in quel momento doveva sentire e riferire queste cose la Madonna la Madonna nella oh ecco grazie alla piccola correzione che è nata il 23 aprile ho fatto un macello con le date no il 23 aprile del 1265 è morta il 4 marzo del 1947 vabbè io avevo detto il 23 marzo e il 4 aprile insomma vabbè non so se è un lapsus o se è veramente messo il partito dal cervello comunque dicevo l'immacolata concezione Pio IX l'ha definita nel 1854 l'assunzione Pio XII l'ha definita nel 1950 oh la corredentrice non è ancora stata definita per cui non è ancora ora ci sarà sicuro io sono sicurissimo ci sarà un Papa che dirà al mondo questa è la corredentrice la mediatrice e l'avvocata dell'umanità e questo è un altro articolo di vede non impugnabile quinto ed ultimo dogma mariano poi ce ne stanno più a mio avviso ma ancora non c'è stato perché perché non è ora non è ora cioè i tempi scorrono nella storia sotto la supremazia il controllo il dominio di nostro Signore cosa dobbiamo mettere bene in testa capite cioè vivere nella divina volontà a mio modestissimo avviso comporta anche un grandissimo riposo interiore perché la persona la pianta di agitare la madonna a Amsterdam le apparizioni in Olanda ha detto che deve essere fatto il dogma della corredentrice le apparizioni sono finite da 50 anni ancora non è stato fatto il dogma della corredentrice quindi vuol dire la chiesa non ascolta la madonna i papi non ascolta la madonna uno si agita che te agiti verranno queste cose qui capito cioè spero di riuscire a farmi capire cioè si riposa perché qui comanda il Padre Eterno d'accordo quando il Padre Eterno fa un decrito che la decide una cosa noi non sappiamo come fa ma così accadde quella cosa si compie attenzione si compie e qui c'è ora il Padre Eterno che fa queste cose cioè se non lo capissimo saremmo come lui quella cosa si compie senza in nessun modo violare le libere volontà delle creature ma si compie e quindi nonostante tutti tutti quelli che ci remino contro si compie capite anche il diavolo che fa il pazzo ma il diavolo che fa il pazzo il diavolo fa il pazzo è una misura in cui Dio glielo lascia fare il pazzo certo in cui concorriamo molto anche noi perché il diavolo fa tanto più il pazzo quanto più l'uomo gli dà potere con tutti quanti i peccati che fa quindi qui c'è la nostra responsabilità però anche lì cioè il diavolo non è mica un altro dio non è che fronteggia nostro signore sullo stesso piano che lo può contrastare non è così quindi dico questo perché e ci lasciamo in questo modo se campa bene in questo mondo qui nel senso che non è che uno diventa fatalista o atarattico no lavora cioè noi dobbiamo pregare tutti i giorni cioè chi ci tiene questo lui lo dice attenzione io ho fatto tutte queste cose per te ma anche perché tu preghi che hai capito che che questo regno venga cioè dice feci questa promessa formale pregando il padre che facessi venire il suo regno d'accordo e tu devi 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 pregare che questo regno venga ce lo mettiamo tutti i giorni quindi non si tratta di inattività d'accordo di quietismo o di fatalismo o di atarassia tanto ci pensa il padre eterno no però pur dovendo noi agire pregare operare fare tutto il possibile lavorare anche moltissimo per la gloria di Dio ma tutto nella pace nella calma nella fiducia che chi porta avanti le cose è il nostro signore io gli offro il mio povero nulla quel povero piccolo contributo che ci posso dare dopo di che è lui che deve portare avanti le situazioni e le cose è lui che deve risolvere i problemi che sono al di là della nostra portata ammesso che ci siano e ci sono andate d'accordo ecco quindi questo a mio avviso è fondamentale da sempre ricordare da ritenere ecco quindi ci rallegriamo davvero nel nel signore sappiamo che i tempi del ripristino della divina volontà adesso sono arrivati d'accordo stiamo nella fase a mio avviso già detto altre volte dei primi dei pionieri di quelli che si avvicinano come quei primi convertiti nei primi tempi del del cristianesimo ecco quindi ma ci sarà un momento abbiamo visto questa sera in cui ci sarà un regno della divina volontà diffuso quanto quando dove come non lo sappiamo ma sicuramente ci sarà perché se questa cosa il nostro signore l'ha decisa e ci sta facendo pregare da un sacco di tempo e quindi è una sua promessa le promesse di Dio sono infallibili e sempre inesolabilmente si compie do la mia benedizione insieme all'appuntamento della prossima settimana nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen vi benedico per aiutarvi vi benedico per difendervi vi benedico per perdonarvi vi benedico per liberarvi da ogni mare vi benedico per consolarvi vi benedico per farvi santi vi benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria Grazie a tutti Grazie a tutti